buongiorno sono emilio baria e laraia e ho frequentato il corso cmb formazione fino a qualche anno fa quando ho superato il concorso per procuratore dello stato e per magistrato ordinario personalmente mi sento di consigliare cmb a tutti per due motivi il primo è per l'organizzazione che io ho sempre trovato seria trasparente ho avuto l'impressione di essere davvero in una scuola che crede nei propri corsisti e che li aiuta a crescere il secondo è per la qualità dell'insegnamento perché accanto alle lezioni giuridiche che non mancano mai e i consigli per scrivere un tema in realtà quello che lascia il corso alla fine è un metodo di approccio alla traccia tale per cui il candidato è sempre in grado di scrivere un tema competitivo e questo è quello che davvero serve in sede di concorso quindi in bocca al lupo a tutti grazie 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 grazie